Come abbiamo visto nello scorso video, Microsoft sta infiocchettando per noi una serie di sorprese per il prossimo semestre. Se queste sorprese saranno positive o negative, belle o brutte, ancora non c'è dato saperlo. Ma quello che sappiamo per certo è che i prossimi aggiornamenti di Windows avranno una richiesta in termini di risorse hardware alquanto esuosa per voler usare un eufemismo. Naturalmente non è ancora possibile predisporre alcuna soluzione in merito fino a quando non le avremo viste, ma devo dire che un grosso barlume di speranza ci arriva in questo caso dalle Castomiso. Se ben ricordi, sette mesi fa su questo canale abbiamo aggiunto un nuovo amico alla nostra community ed è un amico molto speciale. Si chiama James ed è uno sviluppatore indipendente ed in particolare è il papà di Phoenix Light, una delle migliori, se non in assoluto la migliore Castomiso che abbiamo mai presentato su questo canale. Ebbene, neanche a farlo apposta, proprio questa mattina James è tornato semplicemente a salutarci e a farci i complimenti a tutti noi italiani per la vittoria di Sinner nel tennis. Io personalmente non seguo il tennis, so a stento chi sia Sinner, ma sicuramente apprezzo il gesto. Quello che tuttavia James non poteva sapere è che proprio in questi giorni, da un mesetto a questa parte, stavo provando la sua ultima creazione. Si tratta di una Castomiso di Windows 11 23 H2 installabile su qualsiasi sistema che ha delle richieste in termini di risorse hardware davvero ma davvero irrisorie e che oltretutto coniuga a questi pregi una stabilità, una velocità ed anche un occhio alla privacy non comune. Ma non voglio anticiparti altro e quindi ti faccio solo una domanda. Ti senti pronto? Iniziamo! Una cosa che abbiamo imparato per certo negli anni è che è impossibile chiedere a Microsoft e quindi in questi casi non ci resta altro da fare che ricorrere all'antico e nobile motto del gentiluomo digitale che recita esattamente E allora smettiamo di fare Castellinaria e andiamo a provare questa ISO. Va bene, cerchiamo di fare le persone serie e andiamo a vedere di che cosa avremo bisogno nel video di oggi. La prima cosa sarà un bel pendrive. Le dimensioni che ti suggerisco sono da 8 GB in su. Anche se la ISO che andremo a scaricare è più piccolina, avere un pendrive di dimensioni maggiori sarà sicuramente utile soprattutto nel momento in cui vorrai metterci anche dei dati o dei programmi che vorrai tenere con te dopo la formattazione. La seconda cosa che ci servirà sarà il nostro vecchio amico Rufus che ci consentirà di creare il pendrive avviabile. Ed infine la terza ed ultima cosa sarà naturalmente la ISO stessa. Andiamo a vedere come procurarci le ultime due cose e tu mi raccomando nel frattempo metti in tasca il tuo pendrive e tienilo pronto per l'uso. Come prima cosa andiamo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e il primo risultato e cioè quello relativo al sito www.gentiluomodigitale.it sarà quello che ci interessa. Andiamo ad aprirlo e una volta aperto ci porteremo qui in alto nella sezione Downloads. Scendiamo un pochino più in basso ed andiamo ad individuare Windows 11 23 H2 Xlite. A questo punto clicchiamo sul pulsante File Download che ci trasporterà direttamente sul sito dello sviluppatore. Ed eccoci qui sul sito del nostro amico James. Quello che dobbiamo fare a questo punto è scorrere fino in fondo nella pagina che ci si è aperta per individuare questo grosso pulsante che recita Download Link. Clicchiamoci su e ci si aprirà la pagina che ci consentirà di scaricare questa ISO che come vedi ha le dimensioni di 3,23 GB. Per avviare il download tutto quello che dobbiamo fare è cliccare su questo grosso pulsante azzurro. Il download parte e noi non dovremo fare altro che aspettarne il termine. Ed ecco fatto. Ho del cioccolato in mano ma non perché lo sto mangiando. Ok ammetto di averne mangiati anche due quadratini ma in realtà sto preparando mentre giro il video una buonissima coda alla vaccinara e nella mia personalissima ricetta della coda alla vaccinara ci va anche un pochino di cioccolato che tu ci creda o meno. Ma torniamo a noi. Andiamo ad aprire il file compresso facendoci doppio clic su e ci accorgeremo che al suo interno si trova un'ulteriore cartella che una volta aperta contiene già una versione del nostro amico Rufus e quindi non avremo bisogno di andare a scaricarla. Chiudiamo quindi la finestra del browser retrostante e andiamo a tirare fuori da questa cartella due file. Il primo è Rufus 3.16 ed il secondo invece è la ISO stessa di Windows Xlite che puoi individuare facilmente perché è il file in assoluto più grosso infatti pesa circa 3 giga e mezzo presente in questa cartella. Trasciniamolo fuori quindi ed attendiamo il termine del trasferimento. Ecco fatto. Possiamo chiudere la cartella compressa e andare a procedere con la creazione del nostro pendrive. Per farlo andiamo ad inserire il pendrive nel nostro computer. Ecco fatto e quindi apriamo il nostro carissimo amico Rufus. Clicchiamo sul pulsante sì per accettare che vengano apportate modifiche al dispositivo e attenzione andiamo a sincerarci che il pendrive selezionato qui in alto sia quello che effettivamente vogliamo andare a formattare. Attenzione perché la procedura di formattazione su un pendrive andrà ad eliminare tutti quanti i dati e i programmi che sono contenuti in esso in maniera quasi indelebile. Quindi mi raccomando sì certo di aver selezionato la giusta unità. Fatto questo andiamo a prendere dal desktop la nostra ISO di Windows 11 X Lite e trasciniamola all'interno della finestra di Rufus. Generalmente trattandosi di un sistema Windows 11 ti consiglio di lasciare GPT come schema di partizionamento. Tuttavia se il tuo computer non dovesse accettare questo schema di partizionamento e quindi non riuscisse ad avviarsi da un pendrive partizionato in questo modo potrai eventualmente cambiare in MBR. Io lascio GPT. A questo punto clicchiamo sul pulsante avvia e veniamo avvisati come già sapevamo che tutti quanti i dati contenuti su questa unità verranno irrimediabilmente cancellati. Clicchiamo su ok per confermare ed attendiamo il termine di questa operazione. Benissimo il nostro pendrive è pronto ed io nel frattempo ho messo sul fuoco la mia coda alla vaccinara. Devo ammettere che ho fatto anche un altro piccolissimo spuntino quasi insignificante. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è prendere il nostro pendrive e collegarlo sulla macchina su cui vorremmo installare questa nostra custom ISO. Mi raccomando naturalmente come sempre di entrare nel BIOS e selezionare il pendrive come primo dispositivo di avvio altrimenti non riuscirai a far partire l'installazione di Windows 11 X Lite. Eccoci qui. Quando vedi questa scritta mi raccomando premi subito un tasto per far partire l'installazione del sistema operativo. Come vedi si avvierà la schermata guidata classica del Windows con alcuni ritocchini fatti dal nostro carissimo amico James. Arrivati su questa schermata mi raccomando una scelta importantissima cioè se attivare o disattivare Windows Defender. Naturalmente non c'è bisogno di dirti che io ti consiglio vivamente di attivare Windows Defender oppure altrimenti di fornire al tuo pc un efficacissimo sistema antivirus. Io in questo caso scelgo Defender On e clicco sul pulsante Next. Ed eccoci al momento in cui dovremo indicare quale disco vogliamo utilizzare per l'installazione. Naturalmente la situazione ideale è quella che ti sto mostrando ovvero di un disco completamente vuoto su cui procedere. Nel caso in cui tu abbia bisogno di cancellare il disco per far spazio a questo sistema operativo mi raccomando ancora una volta di accertarti che quest'ultimo non contenga assolutamente file oppure dati che per te sono importanti. Selezionato il disco vuoto su cui vuoi procedere clicca sul pulsante Next. Attendiamo un minutino. Ed eccolo qui in tutta la sua bellezza. Prima di usarlo tuttavia dobbiamo fare una piccola operazione ovvero dobbiamo italianizzarlo. Per farlo clicchiamo qui in basso sul tasto Start e scegliamo la voce Settings. Una volta aperti i settaggi ci portiamo sulla parte sinistra dove c'è scritto Time & Language, la apriamo e andiamo a scegliere la voce Language & Region. Clicchiamo sul pulsante Add a Language e nella barra in alto digitiamo Ita per fare prima. Clicchiamo su Italiano Italia e clicchiamo sul pulsante Next. Attendiamo alcuni secondi che vengano trovate tutte quante le funzionalità del nostro linguaggio. Una volta trovate andiamo a selezionare entrambe le voci e clicchiamo sul pulsante Install. Attendiamo ancora un minutino l'installazione del linguaggio. Prometto che non ti metto la musichetta stavolta. Ecco fatto una volta installato l'italiano possiamo cliccare sui tre puntini in corrispondenza di English e scegliere la voce Remove per andare a togliere la lingua inglese. Scendiamo un pochino più in basso e cambiamo la voce United States con Italian. Anche in questo caso sono in ordine alfabetico. Eccolo qui Italy e poi successivamente facciamo la stessa cosa per quanto riguarda il Regional Format. Scegliamo anche qui Italy. Scendiamo ancora più basso e apriamo la voce Administrative Language Settings. Andiamo a cliccare sul pulsante più in basso e andiamo a scegliere anche qui la lingua italiana. Clicchiamo su OK, clicchiamo su Later e clicchiamo sulla voce Copy Settings, il pulsante che si trova invece più in alto. Ora selezioniamo entrambe queste due caselle e clicchiamo sul pulsante OK e finalmente su Restart Now. Ed eccoci qui finalmente con il nostro Windows X Lite completamente italianizzato. Come possiamo vedere andando a curiosare nel menu Start dove tutte quante le voci sono state correttamente tradotte nella nostra lingua. Ma quello che sono curioso di fare a questo punto insieme a te e premere la combinazione di tasti CTRL, SHIFT e DESK per andare a vedere come sono le prestazioni di questo sistema. Ed eccolo qui. Come puoi vedere l'occupazione della CPU si attesta tra l'1 e il 3% al massimo. La memoria è occupata per 1,7 GB a fronte degli 8 che gliene sono andati a fornire e il disco C sta lavorando allo 0%. Inutile dire che non c'è presenza neanche di processi parassiti sulla rete come ho avuto io stesso modo di constatare analizzando questo sistema mediante l'uso di Wireshark. Chiudiamo questa finestra ed andiamo a vedere due operazioni importantissime che ti consiglio di fare subito. Se apriamo questa cartella qui che si chiama Extras più Info troviamo una serie infinita di collegamenti che il nostro amico James ha già predisposto comodamente per noi. Quelli che ti segnalo sono in particolare tre di loro. Il primo è Enable Printing nel caso in cui tu voglia utilizzare una stampante connessa a questo sistema. Ti basterà aprire la cartella e fare doppio clic su questa icona qui. Se invece vorrai andare ad installare un browser perché Windows X Lite parte sprovvisto di qualsiasi browser per questione di leggerezza potrai aprire la relativa cartella come ho fatto io e cliccare su uno dei tre browser predisposti che sono i principali quindi Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Google Chrome. Io in questo caso vado a fare doppio clic su Google Chrome. Come vedi parte l'installazione in lingua inglese. Spesso si accorge che il sistema è in italiano e in questo caso italianizza automaticamente la lingua ma se questo non dovesse succedere sappi che è veramente semplicissimo andare ad italianizzare Chrome. Quello che devi fare è andare il mio come vedi è già in italiano sui tre puntini verticali, scegliere la voce impostazioni, se il tuo browser fosse in inglese clicchi sulla lente di ingrandimento e vai a digitare language. In questo caso si chiamerà lingue perché il mio browser in italiano è in italiano quindi clicca sul pulsante aggiungi lingue, scegli l'italiano, lo clicchi e lo imposti. Tutto qui. Vado a chiudere Chrome e ritorno su quelle che sono le operazioni fondamentali. La terza operazione fondamentale che ti consiglio di fare è l'installazione del Microsoft Store che trovi in quest'altra cartella qui. Anche in questo caso ti basta fare doppio clic e il Microsoft Store che potrebbe servirti verrà installato automaticamente sul tuo sistema. Come ho detto in apertura del video è già un po' di tempo che sto testando questo Windows X-Lite e mi sta dando davvero diverse soddisfazioni. Tanto che non esito a definirla come quella che al giorno d'oggi rispetto alle vecchie ISO si attesta sicuramente come la migliore ed utilizzarla ti dà quella sensazione come... Fracchia la belva umana non hai idea di quante risate mi sono fatto ogni volta che ho rivisto quel vecchio film. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti quanti per Roberto Daeste, Devil Typhoon, Marco Vedovato, Fabio Roseano per essersi abbonati al canale. Vi ringrazio infinitamente a nome mio e di tutta quanta la community e vi do il benvenuto nel ristrettissimo club dei gentiluomini. Ma un benvenuto speciale quest'oggi va a Massimiliano Fraticelli che non solo si è abbonato al canale ma lo ha fatto in qualità di distinto gentiluomo e quindi mi tolgo il cappello virtuale ancora lo so. Un ultimissimo ringraziamento invece è dedicato ad Andrea Roberto per il suo generosissimo super grazie. Signori vi ringrazio veramente di cuore tutti quanti per il vostro supporto, per il vostro appoggio e soprattutto per la simpatia che state dimostrando. E detto questo mi resta ancora un ringraziamento in tasca che non può restare lì ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video fino in fondo anche se magari è stato un po più lungo del solito, mi hai fatto compagnia, ma ora è meglio che mi fermi una buona volta ma non prima di averti salutato e dato come di consueto appuntamento alla prossima.